Il fotoreporter di guerra franco-iraniano Manucer De Gati in 46 anni ha ritratto con sguardo prezioso luoghi e persone di civiltà lontane e del Medio Oriente. A Martina Franca la Fondazione Paolo Grassi ha rievocato con immagini e parole la storia di Aladino e la Lampada Meravigliosa, uno dei racconti delle mille e una notte dalle lontane origini indopersiane. Il racconto ispirò Nino Rota per la composizione dell'opera che il 27 luglio prossimo sarà in scena a Palazzo Ducale di Martina Franca al cinquantesimo festival della Valle d'Itria. Manucer De Gati ormai vive da anni in Valle d'Itria e noi l'abbiamo incontrato nella sua residenza. Afghanistan, Iran, Iraq, Yemen, tutti questi paesi che sono in un modo relazionato a mille e una notte perché ha la Dina che è una storia di mille e una notte. Io ho fatto vedere delle foto di quei paesi che sembrano veramente ancora di quei tempi di mille e una notte. Shahzad che è la ragazza che raccontava le storie, protagonista principale, è una donna che combatte contro una società macista. Parte delle donne soprattutto in paesi musulmani che combattono contro l'ingiustizia. Questo continua oggi in Iran. Le ragazze escono per chiedere i loro diritti. Una storia proprio incredibilmente dentro la nostra cultura. questo è un'attività.